Bentornati ad un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it, previsioni per giovedì 27 giugno. Sono giornate infuocate quelle che stiamo vivendo su diverse regioni italiane a causa del dominio dell'anticiclone africano. Bel tempo su tutti i settori, anche con clima affoso. Ma ecco il dettaglio elaborato come sempre da ilmeteo.it. Al nord condizioni di totale stabilità dell'atmosfera a garanzia di una giornata decisamente soleggiata, caratterizzata da un cielo sereno o al massimo velato ovunque. Spostiamoci ora al centro dove avremo una presenza innocua di nubi sulla Toscana, sull'Umbria e sulle Marche, mentre per il resto il cielo si presenterà del tutto sereno e terzo. Raggiungiamo infine le regioni meridionali dove il bel tempo sarà prevalente con il sole che splenderà infatti indisturbato su tutte le regioni senza alcun disturbo da segnalare. I venti soffriranno in genere con debole intensità, prevalentemente dai quadranti settentrionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 17 gradi e non supereranno i 26 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece punte addirittura di 40 gradi al nord, fino a 38 gradi al centro e fino a 36 sulle regioni meridionali. Bene, per ora abbiamo terminato. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la il fa la differenza. Arrivederci!